Eccoci tornati qui, siamo per l'ennesima punta. Aspetta, sto facendo la presentazione. Io abbiamo rivisto con molto piacere il suo antico pretendente che gli avevo trovato l'ottantenne a Zillo, che lei ha disdegnato con tutta se stessa. Non si fanno cestacci? Non si fanno cestacci. Ha fatto nulla. Ciao, ciao, ciao. Questa è disperazione pura, perché... Ma che disperazione? Gli ho mangiato il pane e il prosciutto, diciamo. Io ho mangiato il pane e il prosciutto. Il pane e il prosciutto. No, io ho mangiato il bignè. Buono, ragazzi. Un mese che vado avanti al cioccolato. Io ho fritto con i classici cenci. No, non ti in forno. Come fai a metterli in forno? Non si pompiano. Forse non mi si pompiano mai. Oh, come se ti portisci? Questo ragazzo è dimagrita. Io invece sono ingrassata come un bove. Sto mangiando con un paiale. No. Ma non mi sei dentro. Buono che ti ho avuto tutti i giorni. Mi sono morta a metterli. Perché voi dovete sapere che io detesto le persone magre. E io, insomma, no, vai. Ma io è magre e dico, sapete quegli scheletrini senza senso che fanno scherzo? Che sembrano a gruccia con le gambe. Ma io è magro. Guarda, mangio poco e mi attengo in forma. Lo sapete cosa ho mangiato? Ho mangiato gli involtini di prosciutto. Col prosciutto in tinti nella salsa. No, era un voltini di pollo. Col prosciutto cotto e l'ho infurciato nella salsa tonno. E quello ho mangiato. E insieme all'oliva verde. Buono all'oliva verde. Sì, ma ho arrivato. E ho arrivato. Non savo dire. C'è niente. Ho sembra che lo squatta, lo squatta, lo squatta, lo squatta. Affanata. Quindi, cosa ha fatto? Ah, per Satana non si fa in quel modo. Poi non si dice blasfema. Allora, diciamo... Gli ho trovato un altro pretendente. E metti il giacchetto. Ha il giacchetto a freddo, sto appadendo come un cane e non se lo mette. Quella faccetta. Quei due cuoti così. E basta? La salsa la filpa e basta? Sì. C'è caldo, cazzo. Sì, questa ragazza è pazza. Io ho... Tutto l'invento sta? Io ho una canottiera, due canottiere. Chiare? Oh, questo è il giacchetto a freddo. La maglietta, la camicia nera. No, no, no. Sto scogliando, ragazzi. Ah! Fessi. Che zoro. Aspetta, dai, io spoglio. Dai, forza. Spoglio? Anche le scarpe. No, la gente lo c'è vero. Aspetta. Tengo la camicia nera, porca nera, tengo l'alma. La bianca c'è, è profissima. Ah, pensavo c'è la piatta. Allora, mancia sempre. Se qualcuno sa che cosa è la piatta. Pianca. Lo so. Ma anche la piatta è un altro... Biglietto, tre euro. Della rama. Rama. Servizio che ti fa cacchè. Rama. Ma te l'hai mai guardato il coso? Il... Il comandante Manara, lì, come cazzo si chiama? Lo sai che c'era? Eh? Ok. È un filmettino di un poli... No, sulle quattro. No, sull'uno. Tipo l'hanno fatta il grossetto, c'era... Ma te l'hai sentito addormentata, era un coma? No, c'era lunedì. No, ma io... Guardo il moto. No, ma insomma, c'era questo qui, figliava il suo pullman della rama, che c'era uno, è betellano, che guidava. Aspetta, è buio. Girati. Non conosco il clube. Come azzina l'ha messo ieri, mi sono a scuola. Ieri? Ieri? Mi sono a tenere la pene, mi sono a essere a scuola. Fai l'onda energetica? No, non si fa così. Non si fa, buona. Aspetta. Energetica. Ssss. Vedo, poveri. Faccia, dai. Mi sono le mani così. Honda Energetica. Non sai, fa l'onda energetica, la vergogna della special. Infatti, se lo faccio, si sta trasformando in un super Kayan. Super Kayan. Aspetta, mi stavano al cavolo. Un super Kayan, non si vedono sempre. Un super Kayan. Un super Kayan. Beh, mi insegna il Romagnolo. Un super Kayan. Un Kayan. Io sto riprendendo, ma non so cosa vuole fare, cosa non vuole fare. Io mi nascondo. ti sfido a trovarmi. Eccola. 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 Presa. Eh? Dove è la lumaca morta? Piccinina. Vabbè, è un guscio. Aspetta, che zoom. È una pallina? Mi viene a piegare il cane. Vai, vai, vai. Non ce la farai mai a chiaffarmi. Aspetta, un po' di cinese. Ai, ai, ai. Ah, va. Vai. Dove porterà questo tunnel, misteri, il segreto dell'UFO? Questo è il fantasma di azzurrino, un attimo, oh mio Dio, Bola! Si sentono delle strane voci, ma appena non sai cosa ho ripreso, ho ripreso il fantasma di Verdina, quando riguardiamo il video se lo fa vedere, questo è proprio un mistero, io sono sconvolta da questo misteri con razze gatti, il drogato, l'ex drogato. No, di fantagli no. No, ma che era, il fidanzato della Barale. Il fantasma di azzurri! Ma io ci credo comunque a queste cose, dei fantasmi. Ma hai finito, si può riguardare oppure... Chi è? Qua! Acqua naturale? Aspetta, facciamo un viso dell'acqua più a avia, lì. Aspetta, aspetta un attimo. Mi sta suonando il telefono? Mi sta suonando il telefono? Mi sta suonando il telefono? No, ce la ti giuro. Ah, l'altra mattina? Sentiamo in diretta questa conversione. Ero a Sverno. Ero a chiamami Babbo, ho sbagliato numero. Ho chiamato un ragazzo e ho detto, Oh Babbo! Ho chiamato Babbo! Chi? Ma perché non ce l'hai memorizzato? Scusa. Sì, ma... Io faccio il numero a casa. Babbo, non so. Ma che si che sei? Ma perché? Non mi andava questa qua, non mi andava una cosa. Ma io dicevo, cosa? Poi... Alle sette e mezza. A due e mezza. Neanche mezz'ora. Ma non riconoscevi che non era altro? Ah, facciamoci bellissima questa volta. Riguardiamo questo video e ti devo far vedere cosa ho scoperto giù. Certo, metto giù. Un piccolo alieno. Pausa. Ok.